Promuovere lo sviluppo armonico ed integrato della ricerca scientifica e tecnologica, prevenendo le conseguenze negative di un uso distorto delle conoscenze e delle capacità di manipolazione della vita. Così, Papa Francesco ha descritto il lavoro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita ricevuto in Vaticano. Il Pontefice ha richiamato l'idea della coltivazione, che esprime la tensione a far crescere attraverso l'ingegno umano ciò che Dio ha posto nel mondo, ma anche il custodire, che significa proteggere il creato. Cardine è imprescindibile dell'agire dell'uomo, ha detto il Papa, è il principio di responsabilità davanti a Dio e agli uomini per evitare di usare male il potere che le scienze e le tecnologie della vita mettono nelle mani dello scienziato e del tecnologo. Attenzione poi all'intreccio tra il potere tecnologico e il potere economico, che può condizionare gli stili di vita e gli orientamenti sociali nella direzione del profitto di certi gruppi industriali e commerciali a sfavore delle popolazioni e delle nazioni più povere. Permettetemi di ricordare che le scienze e le tecnologie sono fatte per l'uomo e per il mondo, non l'uomo e il mondo per le scienze e le tecnologie. Esse siano al servizio di una vita dignitosa e sana per tutti, nel presente e nel futuro, rendano la nostra casa comune più abitabile e solidale, più curata e custodita.